Sinergia e attenzione per il pieno rilancio del Vittorio Emanuele Di Gela. Questo è il risultato dell'incontro del 16 dicembre scorso tra il direttore generale dell'ASP di Caltanissetta, l'ingegnere Alessandro Galtagirone, con il direttore sanitario, la direzione medica di presidio e i primari responsabili dei principali reparti dell'ospedale. Un incontro durante il quale c'è stato il confronto e l'ascolto con chi lavora sul campo anche relativamente alle problematiche legate alle difficoltà registrate nel reclutamento di personale. Argomento che sembrerebbe ormai una costante in tutta Italia ed in più settori, senza fare eccezione per i reparti di emergenza-urgenza e il pronto soccorso. Proprio durante l'incontro sono inoltre state valutate delle possibili soluzioni per contrastare le criticità del momento, i cui dettagli si sapranno solo alla loro definizione da parte della dirigenza. Affrontato anche il tema delle procedure concorsuali in itinere per reclutare professionisti destinati esclusivamente al presidio di Gela. Un'azione di attenzione particolare messa in campo già diversi mesi fa dalla direzione per dare al Vittorio Emanuele una dotazione di personale stabile, così riporta la nota diffusa. Stessi obiettivi quindi, sia per la direzione che per i professionisti, per il pieno rilancio dell'ospedale. Tra le attività concordate ci sarà anche una campagna di comunicazione mirata a fare conoscere ai cittadini tutti i servizi assistenziali che offre il presidio gelese. È stata un'occasione proficua, ha dichiarato il direttore generale Alessandro Caltagirone, per fare il punto su tutte le azioni da mettere in campo per il pieno rilancio dell'ospedale di Gela. È obiettivo di questa amministrazione, prosegue, il percorso già intrapreso, per rendere questa struttura sempre più attrattiva sia per i pazienti che per gli operatori sanitari che la sceglieranno come sede di lavoro.